Assessore Armao, cosa dirà oggi ai giovani presenti? Parleremo del progetto che la Regione ha avviato in un accordo tra l'Assessorato dei beni culturali e la programmazione, che adesso è affidata alla mia responsabilità, per la realizzazione a Palermo del Museo della Memoria e della Legalità. L'idea è proprio ieri sera, lo spettacolo teatrale molto bello e intenso di Giuseppe Iala lo ha ultimamente sottolineato, l'idea è quella di mantenere la memoria di anni tremendi che la città ha vissuto e che devono essere da un lato rappresentati come un'onta per la Sicilia e per i siciliani, gli anni dello strapotere della mafia sulla città, sui siciliani e sui padermitani, ma anche motivo di orgoglio per la capacità che hanno avuto i siciliani, i magistrati, i poliziotti, i cittadini, di ribellarsi e di condurre una battaglia che attraverso il sacrificio di alcuni eroi come Falcone, Borsettino, l'elenco purtroppo è molto lungo, ma anche attraverso una diffusa coscienza civile di tanti padermitani, una città, una regione che hanno saputo reagire e che devono raccontare nel tempo cosa è accaduto, questo terribile tunnel che è stato percorso e di come alla fine di quel tunnel si è vista la luce. Ieri sera mi ha fatto impressione risentire l'intervista di tanti anni fa di Giovanni Falcone alla RAI, dove diceva la mafia può essere vinta e la vinceremo, ecco, dobbiamo avere tutti la consapevolezza che non siamo sempre un già ma non ancora nella battaglia contro la mafia, cioè che è un fenomeno che sta per finire ma non finisce mai. Dobbiamo avere la consapevolezza che questo fenomeno deve finire e potrà finire solo sull'energia, la forza di tanti giovani, di tanti padermitani e siciliani onesti che potranno condurre insieme alle forze dell'ordine, insieme alla magistratura, una battaglia che non è solo giudiziaria, non può essere solo giudiziaria, ma deve essere prima di tutto civile e vincerà solo se diventerà una battaglia civile. Grazie.